Buonasera, benvenuti a Outmezzo, buonasera Silvia Borrelli, corrispondente del Financial Times, buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotiniano, buonasera Giorgio Pallù, presidente dell'AIFA e membro del Comitato Tecnico Scientifico e buonasera Massimo Giannini, direttore della Stampa. Allora avete visto Draghi oggi al G20 sulla salute, dice che il ritorno alla normalità si avvicina e che le mascherine le potremo togliere tra un paio di mesi. Ma Draghi è un vincitore o ha esaurito la spinta propulsiva come scrive Marco Travaglio? Subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, oggi è un vincitore o ha esaurito la spinta propulsiva come scrive oggi al G20 salute, Draghi dice che il ritorno alla normalità si avvicina e dice anche che tra un paio di mesi potremo togliere le mascherine. Quindi questi passi avanti sono un oggettivo merito del presidente del Consiglio? Tutto il mondo esce dall'emergenza e ritorna alla normalità, peraltro era già accaduto in questi giorni lo scorso anno, la bella stagione, la fine della prima ondata, questa volta speriamo di non averne una prossima visto che ci sono i vaccini, questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno, e quindi merito di tutti noi che abbiamo abbastanza bene rispettato le regole, merito delle regole che erano state fissate dal governo precedente che molto opportunamente questo governo ha confermato, merito della prudenza di quelli che venivano descritti come dei sadici a cominciare dal Ministro Speranza che in realtà ha premiato, anzi abbiamo rischiato un pochino anticipando di qualche settimana le riaperture e quindi merito di tutti, siamo tutti felici, ma insomma è un fenomeno mondiale questo, soprattutto nei paesi che vanno verso la bella stagione naturalmente. Massimo Giannini? Il merito di Draghi è quello di avere proseguito l'opera del governo precedente, poi naturalmente la macchina era già avviata, anzi sui vaccini c'è stata una battuta di arresto con il cambio del commissario, a gennaio facevamo più vaccini in assoluto e anche in proporzione alla popolazione rispetto a Germania, Francia e Spagna, i grandi paesi europei, adesso ci hanno superato tutti e tre, la Germania ne fa il doppio e nonostante l'annuncio dei 500 mila ancora oggi la media giornaliera non è 500 mila, quindi poi è chiaro, prima o poi ci vaccineranno tutti, ma insomma ne mancano parecchi rispetto alla tabella di marcia che era stata promessa. Uno su tre è stato vaccinato con la prima dose Massimo Giannini, tu scrivi tra l'altro spesso che sulla campagna vaccinale con Draghi c'è stato invece questo cambio di passo, quindi è la vittoria più importante di Draghi? Vittoria ancora no, diciamo che stiamo combattendo la coda di una battaglia che però ancora richiede tutta l'attenzione e la responsabilità possibili e immaginabili, perché da un lato abbiamo le varianti che in ogni occasione possono scapparci di mano, dall'altro lato abbiamo quello che ha caratterizzato la prima fase della campagna vaccinale e che rende l'azione del governo Draghi diversa secondo me dal governo Conte per la banale ragione che a un certo punto le forniture di vaccini sono saltate per aria, c'è esploso il caso AstraZeneca ed è stato questo che ha di molto rallentato la produzione e la distribuzione. Oggi da questo punto di vista ci siamo rimessi un po' in carreggiata. Abbiamo fatto una bella figura oggi come Italia questo summit globale, il G20 sulla salute. Io penso questo, lo dico anche a Marco che oggi nel suo editoriale diceva tutti a casa, io credo che un salto di qualità ci sia stato obiettivamente, ma non lo dico per criticare Conte perché sarebbe sbagliato sottovalutare la funzione pure importante che ha avuto Conte con una maggioranza soprattutto nel governo giallo-verde particolarmente disastrata, dopo si è un po' riassestato. Però onestamente Draghi sul fronte internazionale ha un prestigio, un'autorevolezza che si è conquistato negli anni. Aspetta perché... Oggi si guida l'Europa insieme alla Wonderland, questo è un dato di fatto di cui non rammaricarsi secondo me, dovremmo esserne soddisfatti senza guardare a quello che c'era prima. Adesso c'è questo e se va bene tutto sommato per il Paese è una buona cosa, no? È una buona cosa Silvia Borrelli, anche alla luce di questo G20 salute di oggi, è un buon bilancio questo del governo Draghi dopo tre mesi? Ha ragione Giannini quando dice che praticamente Draghi guida l'Europa? Dal punto di vista internazionale credo che sia innegabile il fatto di avere Draghi e non qualsiasi altra persona alla guida del governo viene percepito un po' come una garanzia e questo in un momento del genere con un debito pubblico in salita e un'economia tecnicamente in recessione mentre siamo comunque ancora alle prese con la pandemia, dal mio punto di vista per l'Italia è di per sé una garanzia. Ieri parlavo con un politologo che ha definito, ha paragonato Draghi a Ronaldo e diceva che anche quando Ronaldo gioca male nessun allenatore si sognerebbe di metterlo in panchina perché avere un fuoriclasse di quel tipo in squadra è di per sé una garanzia. In questo senso è vero che Mario Draghi è una garanzia, i partiti sono sempre gli stessi, sono quelli che fino al giorno prima litigavano e sono loro che appoggiano il suo governo, però Draghi è quello che da tutti veniva definito la riserva della Repubblica, non a caso da destra e sinistra si pensa a un'ipotesi di Draghi al Quirinale, quindi voglio dire in tre mesi non si cambia un paese ed è difficile quindi fare un bilancio, però ha dato dei segnali e non penso si possa bocciare l'operato di questo governo nel giro di tre mesi, cioè con il governo precedente non si riusciva a fare un bilancio dopo un anno e mezzo e non si riusciva a dire che su certe cose aveva fallito perché dopo sei mesi era scoppiata la pandemia e quindi era difficile fare un bilancio. Adesso con un governo che è nato come tutti sappiamo nel mezzo della terza ondata mi sembra un po' ingiusto dopo tre mesi già sentenziarne la morte. Allora adesso ci arriviamo, però prima voglio interpellare il nostro esperto, professor Palù. Allora siccome oggi al G20 salute il presidente del Consiglio Draghi ha detto che la normalità si sta avvicinando e che tra un paio di mesi potremo anche toglierci le mascherine. Forse tanti pensavano, uno, che avremmo potuto farlo prima e due, lei pensa che una prossima ondata, Travaglio prima diceva la possiamo, speriamo di poterla escludere, la possiamo escludere? Guardi ci sono due fattori da tenere in considerazione, uno l'ha accennato il dottor Travaglio, stiamo andando verso una mitigazione di quei che sono i virus a trasmissione aerea con la stagione, quindi immunità, raggi ultravioletti, circolazione dell'aria, attività all'aria aperta, quindi due, c'è un aspetto che non si tratta di un'infezione localizzata, è una pandemia, quindi tutto il pianeta ne è coinvolto, non c'è un paese che si esente e in molti paesi questa diffusione è di tipo asincrono, quindi noi quando parliamo di avere una decrescita della curva epidemica o addirittura un'estinzione dobbiamo tener conto che siamo in 7 miliardi e mezzo nel pianeta e che quello che oggi qui sta andando bene da altre parti si sta accendendo, quindi questo per quanto attiene agli aspetti di cui mi chiedeva, ma penso che altre pandemie dovremmo presto avere di fronte, che ci vengono sicuramente dal mondo animale, che ci vengono non solo da virus ma anche da batteri che sono resistenti a molti antibiotici e soprattutto ricordiamo che stiamo violando il pianeta in quelle che sono nicchie ecologiche, coltivazioni massive, allevamenti massivi, vengono raggruppati animali di varie specie e soprattutto il cambiamento climatico e la polluzione, quindi stiamo diffondendo insetti e artropodi che sono veicoli di nuovi virus. Ecco, questo tra l'altro è stato un tema anche oggi al G20 Salute, questo del cambiamento climatico, delle crescenti disuguaglianze. Senta Professor Palù, ma Draghi dice anche che ci saranno probabilmente altri cicli di vaccinazione e in più oggi a questo G20 Salute si è parlato molto di brevetti, sono tutti d'accordo per una temporanea sospensione dei brevetti sui vaccini. Allora due cose, uno dovremo vaccinarci almeno una volta all'anno e sarà come fare un vaccino anti-influenzale. Due, il fatto di sospendere il brevetto sui vaccini, cosa comporta per l'Italia? Allora, devo dire che ai G20 ho partecipato come rappresentante italiano assieme al Professor Brusaferro, quindi conosco molto bene quel documento che abbiamo preparato in un paio di sedute, quindi l'attenzione viene fatta appunto alle nuove forme pandemiche e alla distribuzione di vaccini soprattutto ai paesi poveri, a un'implementazione di quelle che sono le tecnologie innovative per disporre rapidamente di vaccini e per renderli fruibili anche a coloro che non hanno le tecnologie per farlo. E venendo la sua domanda sui vaccini, io qui ricordo anche da Veneto quella che è stata l'esperienza nel 400 della Serenissima Repubblica di Venezia che proprio instaurando la proprietà intellettuale ha tratto allora molti scienziati, molti diciamo quelli artigiani, molti talenti per sviluppare nuove tecnologie, e le tecnologie di allora. Ma è contrario alla sospensione del progetto dei vaccini? Lei è il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco? Come ricercatore e come medico direi che sono contrario nel senso che non credo che se noi alleniamo la proprietà intellettuale saremmo in grado subito di avere una risposta perché dove li fabbrichiamo i vaccini? Abbiamo visto il fallimento del vaccino Sputnik in parte in Brasile, si sono accorti che aveva alcune componenti di virus infettivo. Quindi insomma non ci saranno grandi ripercussioni sull'Italia? Ha una protezione? Questo voglio dire. Io credo che sia più importante costringere le aziende del farmaco, soprattutto quelle che hanno ricevuto finanziamenti pubblici, ad essere come è avvenuto già con l'AIDS, ricordo la cosiddetta compulsory license che è quella licenza obbligatoria, erano costrette a un trasferimento tecnologico a paesi che potevano fare farmaci e vaccini e soprattutto renderli disponibili a prezzi molto bassi per coloro che non possono acquistarli e non hanno disponibilità. Torniamo a Marco Travaglio e al Presidente del Consiglio Draghi perché hai sentito che un politologo ha detto a Silvia Borrelli che Draghi è come avere Ronaldo e quindi non lasci il seduto in panchina. Tu però scrivi che Draghi ha esaurito la spinta propulsiva e che ora sarebbe meglio dare una scadenza a questa agonia e portarci a votare. Ma il voto non è l'ultima cosa a cui dovremmo aspirare in questo momento in Italia? Guarda, ci sono due modi di parlare di Draghi. C'è un modo da innamorati e lì al cuore non si comanda. C'è ancora chi considera che i Presidenti del Consiglio debbano essere Ronaldo. Mi ricorda la retorica berlusconiana del Gepensimi e del Lasciamolo lavorare. Purtroppo è una retorica totalmente incompatibile con le democrazie, nel senso che nelle democrazie non comanda Ronaldo. Nelle democrazie governa chi viene eletto, espresso dalla maggioranza eletta del Parlamento. Quindi Ronaldo sarà un bravissimo calciatore, se vuole fare politica si candida oppure diventa il leader di un partito che poi lo issa a Palazzo Chigi. Per il momento non esiste quel modello di democrazia e lo vedremo molto presto, perché quando si tratta di dire facciamo i vaccini, sono tutti d'accordo, destra, centro-sinistra, quando si dice dobbiamo consegnare entro il 30 aprile il recovery, si prende quello che hanno scritto gli altri, si fa qualche ritocchino per aiutare le lobby dei Ministri che si sono messi e che si sono chiamati tecnici, perché noi in Italia i lobbisti li chiamiamo tecnici quando diventano Ministri e poi si consegna l'ultimo giorno utile, tra gli applausi generali. Poi arriva il problema. Il problema è qual è il nuovo fisco? Qual è la nuova giustizia? Qual è la nuova pubblica amministrazione? Qual è il nuovo welfare? Cioè chi paga? Dato che siamo in una crisi che è ancora cloroformizzata dal blocco dei licenziamenti e appena salta quel blocco ci sono almeno un milione di persone che si ritrovano dall'oggi al domani sul marciapiede, la domanda è chi paga? Ne avete già parlato ieri in puntata? C'è stata una timidissima proposta di Enrico Letta, una piccola redistribuzione, una piccola tassettina sulle eredità miliardarie, milionarie. Apriti cielo, ieri Draghi si è lasciato scappare che questo non è il momento di prendere ma è il momento di dare. Ma se tu vuoi dare, da qualche parte devi prendere. E dove devi prendere? Questa è la politica, non esiste Ronaldo, non c'è Ronaldo che decide al posto della politica. C'è Salvini che ha una ricetta, ci sono i 5 Stelle che ne hanno un'altra, c'è il PD che ne ha un'altra e c'è Berlusconi che ne ha un'altra. Dato che queste riforme vanno fatte e non possono essere dei pateracchi per non scontentare nessuno. Io penso che per fare delle riforme serie ci voglia una maggioranza seria, coesa, che più o meno la pensi allo stesso modo. Non è il caso di questa ammocchiata che ha idee opposte. Per questo l'Europa ci chiederà conto e lo chiederà anche a Ronaldo se non riuscirà a mettere d'accordo gli opposti. E io dubito che in piena campagna elettorale metterà d'accordo gli opposti. Massimo Giannini. Ma guarda, sul piano teorico il discorso che fa Travaglio ha un suo senso, non c'è dubbio, però salta una premessa fondamentale. La premessa fondamentale è la ragione per la quale Mario Draghi, sia Ronaldo o Gattuso, sta a Palazzo Chigi. Perché Mario Draghi sta a Palazzo Chigi? Non perché c'è stato un colpo di Palazzo o, come si usa a dire, ancora da qualche parte i poteri forti hanno buttato giù Conte, hanno voluto mettere l'ex banchiere centrale. Banalmente, Marco, tu lo sai, a un certo punto... Esattamente quello che è successo. L'abbiamo visto tutti. Sì, è successo che una maggioranza, diciamo che non era particolarmente coesa, perché questo credo che lo possiamo dire, non è che prima ci fossero le verdi vallate, no, che ci fosse un quadro politico così meravigliosamente armonioso, che produceva quelle che Nenni chiamava gli equilibri più avanzati. Non era così, onestamente. No, però la domanda... Non era coesa, ci abbiamo aggiunto Berlusconi e Salvini per renderla più coesa. Aspetta, aspetta. Allora, ok, benissimo. Colpo di Palazzo, i poteri forti fanno cadere Giuseppe Conte. A quel punto la palla ritorna in mano ai partiti, no, che vanno dal Presidente della Repubblica e devono saper esprimere un altro governo, un altro Presidente del Consiglio, un'altra maggiore. Allora, se non capiamo questo, di cosa parliamo? Dopodiché, è vero, ha ragione Marco, su questo sono d'accordo con lui, che la partita delle riforme che inizia adesso ha una sua complessità. Voglio capire una cosa, e ricomincio da Silvia Borrelli, questa maggioranza, diciamo così, eterogenea potrà fare delle vere riforme che peraltro sono fondamentali anche per ottenere tutti i soldi del Recovery Plan? Ecco, e questa è la domanda da un milione di dollari e lo è fin dall'inizio, perché è naturale che il problema sia questo e voglio dire, non siamo riusciti a fare delle riforme strutturali in 30 anni con governi molto meno eterogenei di questo, è ovvio che il problema che si pone adesso è come riuscire a fare una sintesi e trovare un punto di equilibrio in una maggioranza dove ci sono dentro tutti su riforme molto divisive che vanno dalla giustizia. Ma tu pensi che questo governo ci riuscirà, questo governo di unità nazionale? Beh, dipende anche da quanto tempo avrà, perché è evidente che se va a casa tra meno di un anno non ci riuscirà ed è chiaro che se i partiti si pongono in modalità di campagna elettorale già dall'estate e poi con le amministrative d'autunno è molto difficile, però se posso fare una battuta nel caso il governo cada all'inizio del prossimo anno o insomma Draghi vada a Quirinale e poi si vada a elezioni, spero che saremmo autorizzati a dare la colpa a quel punto ai poteri forti che in quel caso anziché essere le elite europee e il gruppo Gedi come ha detto Di Battista saranno Travaglio e La Lega, perché se dopo tre mesi ci mettiamo a nove mesi tra l'altro dall'elezione del prossimo capo dello Stato cominciamo già così a dare questo governo per defunto e Draghi per fallito, quando tutti i governi precedenti che sono rimasti lì per anni queste riforme non le hanno fatte lo stesso, francamente insomma penso che c'è un po' di mancanza di equilibrio e forse anche una spinta ad orientare in un certo modo l'opinione pubblica perché se in Italia ogni anno dobbiamo cambiare governo e anche quando arriva Draghi che tutti volevano Draghi perché prima non andava bene, eravamo nel mezzo di una pandemia Tu lo volevi Draghi, chi sono questi tutti che lo volevano? Dove sono questi tutti? Sarai tu che volevi Draghi, questa leggenda che tutti volevano Draghi, ma dove l'hai visti? Ma chi sono? Ma chi sono? Ma chi sono? Ma chi se ne frega di Conte? I partiti hanno voluto Draghi però, Marco, i partiti hanno voluto Draghi perché gli hanno votato la fiducia, Draghi non è che sta in piedi perché è Ronaldo, sta in piedi perché gli hanno votato la fiducia e quindi l'hanno voluto loro i partiti, il Draghi, no? Allora, Marco Travaglio, ma scusa Marco, togli i fratelli d'Italia, mi risulta che stiamo sostenendo questo governo fino a prova contraria, no? Forse vedo male. È una specie di barzelletta quella che sto sentendo perché io ho posto un problema che è che cosa fa il governo Draghi se dura nei prossimi due anni? Su questo siamo d'accordo e ci ragioniamo, ma la premessa è importante. Qual è il programma? Io sentivo dire prima non sono state fatte le riforme per trent'anni, ne hanno fatte a decine, erano tutte schifose. La crisi di sistema c'è stata nel 2018 quando quella classe politica di destra e di sinistra che ha fatto quelle riforme ed erano le riforme invocate dalla Confindustria e da tutti i poteri forti che hanno sempre sostenuto con i loro giornali tutti i governi di destra e di sinistra sono state fallimentari. La crisi di sistema c'è stata nel 2018 e non nel 2021. Nel 2021 c'è stato un piccolo incidente della storia che ha fatto cadere un governo che stava funzionando e che aveva gestito bene la pandemia e che aveva ottenuto i 209 miliardi dall'Europa che se non avesse voluto dargli fiducia non gli avrebbe dato i 209 miliardi di fiducia. Ma io non sto facendo la storia del governo Presidente, sto dicendo, se quel governo non era abbastanza coeso voi potete forse pensare che diventi più coesa una maggioranza sfasciata aggiungendoci la Lega e Forza Italia. Quali riforme possono fare insieme gli opposti che non sono d'accordo su nulla? Per questo io auspico che questo governo ti do una notizia però. Perché spero che ne arrivi uno più coeso che quelle riforme le fa e stavolta le fa giuste. Però ti posso dire una cosa al volo? Siamo ancora in piena emergenza pandemia ed economia. Il governo ha appena varato un decreto da 40 miliardi, può piacere o non piacere, ma c'è dentro parecchia roba, IVI compresa la proroga del blocco dei licenziamenti di cui parlavi prima, decisa da questo governo. Oggi circola già il testo del prossimo decreto che sarà quello sulle semplificazioni, c'è il decreto della pubblica amministrazione, ci sono cose da fare, diamogli tempo e vediamo se le fa, non è che dopo tre mesi puoi dire andatevene a casa perché non fate niente. Ma non ho mica scritto che deve cadere domani, ho detto che i partiti dovrebbero prendere l'iniziativa per staccare la spina in connessione con l'elezione del Presidente della Repubblica, perché è chiaro che quella è una cesura dopo la quale niente sarà più come prima e non faranno più assolutamente niente se non vi va chiara. Silvia Borrelli. Sinceramente appunto gennaio è dopo domani, alla fine del 2022 dobbiamo finire di raccontare all'Europa che cosa faremo con tutti i soldi, ma non li avremo ancora investiti, sono cinque anni cruciali, non so se quello che dobbiamo auspicare per l'Italia sono le elezioni anticipate, sul fatto che le riforme sono difficilissime da fare con una maggioranza così eterogenea siamo d'accordo, sinceramente non so quante riforme sono state fatte dal 18 al 21, dopodiché se non vogliamo dopo tre mesi neanche dare del tempo, dopo tutto quello che abbiamo passato e dopo di crisi abbiamo parlato per gli ultimi 6-7 mesi a partire da quando Renzi ha iniziato a ventilare l'idea che avrebbe staccato la spina al governo, se vogliamo ricominciare adesso appena usciti dalla pandemia, quando siamo per uscire dalla pandemia a ricominciare a parlare anziché di riforme e di investimenti e di recovery fund vogliamo ricominciare a parlare di elezioni, facciamolo, dopodiché quando avremo un altro governo vedremo chi ci sarà al governo, vedremo anche come l'Europa si porrà nei confronti di quel governo e che cosa farà quel governo con un paese indebitato oltre il 160% del PIL. Guarda che non sono io che parlo di elezioni, sembra che sono io che parlo di elezioni, l'hai sentito Salvini, uno degli azionisti di maggioranza dire mandiamo Draghi al Quirinale e poi votiamo? E questa è la situazione reale, effettuale, non sono io, secondo me Salvini dà una lettura corretta della situazione perché si rende conto che non è d'accordo su niente con gli alleati e se non si è d'accordo su niente non si fa niente, c'è qualcosa da dire, ha perfettamente ragione perché ha preso atto del fatto che questa maggioranza è finta, non esiste unità nazionale, non sono d'accordo su nulla. Va bene, allora io sono tutti a casa, ho molti dubbi che la grande maggioranza degli italiani sia d'accordo in questo momento in cui siamo ancora in pandemia professor Pallù, questo dobbiamo ricordarcelo sempre, tant'è che non sarà un caso che oggi Draghi ha detto che la mascherina ce la toglieremo tra due mesi, lei ci certifica che questo periodo ha da passare finché riusciremo ad essere abbastanza vaccinati e da non rischiare altri disastri, lo conferma questo? Due mesi? I parametri che misurano la pandemia sia biologici che clinici indicano tutti il meglio, nel senso l'incidenza dei casi per 100.000 è sotto i 100, quindi siamo a livello medio intorno agli 82. Ci sono regioni, almeno 5 o 6, che hanno meno di 50 casi per 100.000 abitanti per settimana, quindi vuol dire che si potrà fare il tracciamento e questo vuol dire che si potrà intervenire nel caso che ci siano dei focolai in maniera molto precisa facendo una diagnosi e un tracciamento preciso. L'R con T è a livelli bassi. Conti lei mi dica se tra due mesi anche lei pensa che ci potremo togliere le mascherine, secondo lei? La curva sta scendendo in maniera progressiva, ancora non drammatica ma lenta e progressiva, io credo che questa possibilità sia molto molto verosimile. Molto verosimile. Senti a professor Pallù, Pfizer e Moderna, lei ha proposto di spostare a 90 giorni il richiamo, ma non rischiate di aumentare ulteriormente la confusione nell'opinione pubblica e nel governo per la verità nessuno per il momento la sta seguendo su questo fronte e le regioni potranno vaccinare anche i turisti? Io non ho proposto, io ho commentato un lavoro scientifico che era appena uscito, ovviamente sia come AIFA noi abbiamo dato un'indicazione che non contraviene a quella che era la raccomandazione, cioè i vaccini a mRNA si possono fare a seconda dose dopo 21-28 giorni, ma si possono estendere fino al 42esimo giorno. Ora questo lavoro che è uscito nel Regno Unito dove hanno vissuto una tragedia per alcuni versi superiore alla nostra e avevano mancanza di dosi, sì parliamo di 11-12 settimane come indica quel lavoro, hanno visto in soggetti, erano 170 soggetti anziani con più di 80 anni, hanno visto che dilazionando fino a 80-90 giorni avevano una risposta anticorpale di anticorpi contro il virus, che neutralizzano il virus, di tre volte superiore ai soggetti che si vaccinavano secondo la raccomandazione di 21-28 giorni, quindi questo ha fatto ben pensare. Va bene, però per il momento questa ipotesi non c'è, ma mi dica solo rapidamente però. Per il momento è un'ipotesi, sì. Ecco, ma le regioni che insistono per fare le seconde dosi nei luoghi di vacanza, si può fare, il professor Filiolo è scettico, rapido? La cosa importante è che si facciano come previsto e come indicato, ho detto, quindi entro i 42 giorni, quindi nel 42esimo giorno e non oltre, quindi inutile che noi pensiamo alle vacanze in questo momento. Dobbiamo prima pensare alla salute nostra singolarmente, che è poi un diritto dovere, dobbiamo salvaguardare gli altri, quindi prima il vaccino e poi le vacanze. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché intanto in questa situazione la criminalità organizzata non resta con le mani in mano, soprattutto in Calabria. Guardate. C'è il pentito che svela il nome dell'autore di un delitto commesso a due passi dal municipio di Vivo Valencia, c'è il racconto di come lendrine si spartiscono gli appalti autostradali, ci sono anche le ringhe dei difensori, le testimonianze reticenti e quelle che invece confermano le tesi dell'accusa, ma per la prima volta nella storia della giustizia italiana di tutto questo non c'è traccia in televisione. Dal 12 gennaio si sta svolgendo in sostanziale clandestinità il maxiprocesso di Lamezia Terme contro l'Andrangheta, noto come rinascita Scott. Coinvolge 325 imputati con 400 capi di imputazione e circa 2000 testimoni tra accusa e difesa. La clandestinità nasce dal fatto che il Tribunale di Vivo Valencia ha vietato la diffusione dei filmati delle udienze prima che venga pronunciata la sentenza. Poiché la sentenza, secondo le previsioni più ottimistiche, verrà emessa nel 2023, si dovrà attendere fino ad allora per avere una normale copertura televisiva del processo. Le emittenti calabresi fanno del loro meglio per tenere informato il pubblico, replicando nei loro studi il contraddittorio che si svolge in aula. Questa sera ad esempio sulla CTV il difensore dell'ex parlamentare Giancarlo Pittelli, uno dei principali imputati, se la dovrà vedere tra gli altri con Pino Aprile e Antonio Nicaso, studioso di Indrangheta e storico collaboratore del PM Gratteri. Ma il processo vero, quello che conta, è invece oscurato. Sulle limitazioni del diritto di cronaca disposte dal Tribunale di Vivo dovrà ora pronunciarsi la Ministra della Giustizia, chiamata in causa da un'interrogazione parlamentare presentata dal senatore De Bonis. Allora siamo in chiusura, grazie Silvia Borrelli, grazie Marco Travaglio, grazie Professor Pallù, grazie Massimo Giannini, grazie spettatori, linea Diego Bianchi al suo Propaganda Live, quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani a otto e mezzo. Grazie a tutti, grazie a tutti.